Amici di Youtube, bentornati da Marco Ligori, avviso importante quando questo video dovesse superare i 300 like ne pubblicherò immediatamente uno nuovo, lasciate il vostro piace adesso per avere subito online un nuovo video di Marco Ligori vi ricordo anche che este video también está traducido al español en este video parliamo de un otro episodio accaduto durante el concerto de Ralbano en Romina ad Atlantic City, peraltro già abbondantemente documentato sia sulla pagina Facebook Albano Carrisi Fan Club e soprattutto sul mio Instagram, Marco Ligori 7, è stato un concerto molto bello e non sono mancati anche i momenti di paura infatti Romina a un certo punto ha accusato un malore, si è dovuta fermare un attimo, ha avuto un riacutizzarsi di un dolore alla gamba, sappiamo che Romina si era operata qualche mese fa e questo concerto di Atlantic City ha anche permesso ad un'altra Romina, Romina Junior, di trovare l'amore sebbene questi che sto per narrarvi sono soltanto dei rumors pare che Romina Carrisi Power, ovviamente la piccola di casa Carrisi, la figlia di Albano e Romina abbia un nuovo amore ed è il suo truccatore Tony Romano quindi facciamo i nuovi auguri a Romina Carrisi Power qualora questa notizia dovesse trovare conferma facciamo gli auguri per questa sua nuova storia d'amore amici di Youtube, come promesso vado a tradurre questo video anche in spagnolo e ringrazio tutti gli amici che mi seguono dai paesi latini che come al solito elenco, non so perché mi avete scritto che suscito ilarità quando cito tutti i paesi latini scrivetemi nei commenti perché, perché francamente non l'ho capito per tanto saluto Bolivia, Venezuela, Argentina, Uruguay, Paraguay, Cile, Colombia, Messico, Ecuador Honduras, ovviamente ringrazio la Spagna e chiedovenia per non aver menzionato tutti i meravigliosi paesi latini la notizia del giorno è la seguente Romina Carrisi Power la hija de Albano e Romina tiene un nuovo amor or su Macchiador Tony Romano amici di Youtube, lasciatemi dire che magnifico idioma questo spagnolo e grazie a tutti gli amici dei paesi latini per aver portato Marco Liguri in tutti i paesi per averlo portato in Spagna ovviamente e in Sud America amici di Youtube, vi ricordo che su questo canale vige il concorso del commento del giorno il commento più bello viene letto in diretta l'autore del commento viene salutato da me e con queste modalità vado a premiare la vincitrice del commento del giorno del video precedente è Luciana Lo Sanno, una cara iscritta che ci dice mi dispiace, spero riuscirà a salire la china nel senso che riuscirà ad avere soldi e vivere economicamente serena la tua vita, io non la giudico anzi l'ammiro e mi dispiace per quello che ti sta capitando brava Luciana la vincitrice del commento del giorno sul video precedente ovvero del famoso VIP caduto in disgrazia per scoprire di chi si tratta vi suggerisco di dare un'occhiata ai miei video sul primo canale di Marco Liguori se al pari di Luciana Lo Sanno volete essere salutati in diretta e volete che il vostro commento venga letto in diretta di fronte a decine di migliaia di italiani e di persone in Sud America scrivete un commento che possa portare valore aggiunto alla mia descrizione io vi ringrazio per l'attenzione iscrivetevi al primo canale di Marco Liguori subscrivete al primo canale di Marco Liguori ribasterà se mi chiedete di cliccare il tasto iscriviti in basso a destra importante seguitemi su Instagram Marco Liguori 7 laddove pubblico le foto inedite di Albano e Romina se preferite Facebook seguitemi sulla pagina Facebook Albano Carrisi Fan Club ciao a tutti